Sabato 15 settembre alle 17 avrà inizio la quarta edizione della Notte Gialla organizzata dall'Unione Sportiva Acli di Caltanissetta presieduta da Aurelio Armatore. Gli organizzatori fanno sapere che quest'anno la manifestazione è inserita nel contesto della prima edizione della giornata nazionale di sport targata US Acli e denominata a livello nazionale lo sport che vogliamo, che si svolgerà contemporaneamente in ben 36 province e 17 regioni con 40 eventi programmati e oltre 42 discipline. Tante le attività sportive che si svolgeranno a Caltanissetta, dalla ginnastica artistica ai balli di gruppo, dalla pesistica al karate, dal tennis al tango. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.